Siamo in piena emergenza rifiuti, settore ormai commissariato da diversi anni e settore sempre in crisi, sempre in emergenza, un'emergenza che ancora oggi non si riesce a risolvere. Anzi oggi la situazione è decisamente peggiorata, le strade sono invase dai rifiuti ed è un problema che sta interessando un po' tutto il territorio. Ultimamente i sindaci del Basso Ionio soprattutto si sono coalizzati in un certo senso con una serie di riunioni e di incontri per fare il punto della situazione e trovare una possibile alternativa per uscire dalla crisi. Facciamo poi il punto di questo che è un coordinamento di sindaci con il primo cittadino di Crozia, Gerardo Aiello. Guardi, noi siamo stati costretti a questa coalizione perché abbiamo in mente altri tipi di coalizione, noi vorremmo approdare il primo possibile all'Unione dei Comuni in questa terra. Questo disguido provocato non da noi ci ha costretti a coalizzarci e ahimè forse ci ha costretti anche a dividerci per certi aspetti con la città più grossa del territorio che è Rossano, che noi abbiamo guardato sempre come luogo aggregante, così non è stato nel periodo in cui sono state fatte le battaglie per il mantenimento dell'ospedale di Cariati, sapendo che si approdava, si sarebbe approdati alle difficoltà che oggi stiamo considerando, ma soprattutto in questo frangente i rifiuti che hanno invaso il territorio, diciamo noi per una incapacità di programmare da parte dell'Ende Regione attraverso un commissariamento eccessivamente lungo, 16 anni, che non ha portato positività, almeno per quanto riguarda l'area ionica. Ecco, questi accumuli continui di rifiuti sulle strade e l'impossibilità di conferirli ha portato ad un'aggregazione per difenderci da un'insidia che noi sappiamo tutti quanti quando è pesante per l'igiene, per i territori e quant'altro. Più volte ci siamo recati a Catanzaro, abbiamo incontrato l'assessore al ramo, abbiamo ripetutamente, a distanza non più lunga di due o tre mesi la volta, incontrato il commissario per l'ambiente, tentando di capire quale soluzione erano lì da venire, insomma. Abbiamo sempre, purtroppo, riscontrato un affanno che è stato teso tutto a dare soluzioni tampone, ma mai, è quello che cercavamo, ad individuare soluzioni definitive per questo territorio. Oggi che parliamo abbiamo l'ennesima assicurazione che la prossima settimana saranno rimossi i rifiuti per essere spediti in Puglia, ma io non capisco se questo è l'ennesimo tampone, sicuramente non è la soluzione. Allora noi ci affanniamo da più tempo a chiedere, con insistenza, che ci dicano il da farsi, non caricandoci di responsabilità o volendoci sollecitare a soluzioni che non condividiamo, e le soluzioni che non condividiamo sono quelle che consentono di aprire altre discariche, ma non risolvere il problema. Questo non lo vogliamo. Allora, mentre da una parte continuiamo a chiedere alla Regione che ci dica quale politica per l'ambiente dell'Oionio fa, nel Condempo ci stiamo preoccupando di combattere l'emergenza, questa emergenza che purtroppo ha creato discrasie con il comune grosso della nostra area di Rossano. Le discrasie sono dovute ad atti che non sono stati concordati all'impossibilità di vedere rispettate ripetute ordinanze che portavano in direzione di un equilibrio giusto di conferimenti che non è stato possibile. Oltre le varie ordinanze commissariali che si sono susseguite in questi tempi, di recente alcuni provvedimenti rossanesi emessi dal sindaco di Rossano vi hanno indotto anche ad adire le vie legali. Guardi, noi non abbiamo con Rossano nessun condenzioso perché non vogliamo assolutamente avere condenziosi con i nostri cittadini amici di Rossano che rispettiamo, dei quali comprendiamo i grandi problemi. Questo sia chiaro prima di qualsiasi altra considerazione ed affermazione. Noi, fra l'altro qui di Crosia, ma posso dirlo per tutto il territorio della Valle del Triondo come posso dirlo per il basso Ioni o Cosentino, continuiamo a guardare con interesse alle evoluzioni culturali, sociali che Rossano deve porrli in essere ancora in modo più forte rispetto al passato. E siamo lì ad aiutare, se c'è la possibilità da parte nostra, da parte dei piccoli comuni, aiutare gli sforzi di questa cittadina che non può subire l'onta della chiusura del tribunale, non può subire la trascuratezza di una regione che l'ha accandonata. Questa è la verità. Detto questo, però, chi ritiene di utilizzare l'istituzione, Prodomo Sua, certamente fa un bene alla sua città, ma non possiamo assolutamente accettare che si adottino provvedimento, che hanno l'odore dell'autoritarismo e che hanno l'odore dell'abuso. Perché l'ordinanza che il sindaco di Rossano ha fatto, per una giusta causa, quella di ripulire Rossano, noi siamo con chi tende di dare al territorio il massimo dell'igiene, ma non si può operare a danno di altri. E dico perché? Perché se è legittimo che Rossano requisisce una parte della discarica di Bucita, per motivi igienico-sanitari ci sta bene. E siamo con Rossano, o con l'istituzione rossanese. Ma quando l'istituzione rossanese furbescamente, attraverso un atto che, diciamo, ha odore di abuso, per quanto ci riguarda, finisce per danneggiare gli altri e Prodomo Sua utilizza un provvedimento che non ha assolutamente giustificazione sotto il profilo giuridico, a noi non ci stiamo a questo. Allora noi facciamo le nostre considerazioni prima, abbiamo marciato insieme per difendere il territorio dai rifiuti, non vediamo perché quest'isolato atteggiamento di prevaricazione, perché di questo si è trattato, nel momento in cui la fila sterminata dei camion della periferia hanno continuato ad essere vessati dai vigili di Rossano, rispettiamo il loro lavoro perché qualcuno li avrà mandati, sono stati ripetutamente lì in situazioni di quasi diniego assoluto di conferire costretti a tornare indietro pieni, mentre tranquillamente guardi non solo Rossano ma Corigliano ed oggi Trebisacce pure si è aggiunta a questa prevaricazione, tale la chiamiamo, perché se Rossano ha diritto e titolo di vedere nella città i manifesti che abbiamo ripulito, io non vedo perché non dovrebbe farlo Cariati, non dovrebbe farlo Crosi e gli altri comuni. Questo è il senso, per cui siamo stati costretti a rivolgerci al Procuratore della Repubblica al quale abbiamo chiesto se questi provvedimenti ultimi che hanno finito per sfiancare lo sforzo dei sindaci nel territorio non abbiano consistenza di illegalità o di abuso, questo è, perché vogliamo che tutti ci rispettino come noi rispettiamo gli altri. Un'ultima considerazione sempre in tema di emergenza rifiuti, si parla ultimamente anche della possibile apertura della discarica di Scalacelli, lei diceva prima che è un problema che va affrontato con lungi miranze guardando oltre, quindi è possibile in questa fase pensare solo ad aprire ulteriori siti? No, no, guardi, e non è la mia considerazione, la considerazione è che penso qualsiasi cittadino corredato di responsabilità civica deve fare. Qui non si tratta di trovare l'espediente immediato per creare un'altra fossa, poi un'altra fossa, poi un'altra discarica e non affrontare il problema seriamente. D'altro canto il dubbio che si è incuneato in questo periodo, che tutta questa storiella sta girando e sta muovendo le cose in direzione di una forzatura quasi, di un ricatto nei confronti dei cittadini del territorio ad accettare una soluzione che noi non riteniamo sia la soluzione giusta, veramente vergognosa, è veramente vergognosa. La Regione Calabria se la sente di fare i suoi passi, no? E se è vero che non sono i privati a gestire tutto questo popò di materia, faccia i suoi passi la Regione, abbia il coraggio di programmare, abbia il coraggio di coinvolgere il territorio in queste cose, cosa che non è stata fatta e noi contro questi comportamenti diciamo a voce alta che non siamo d'accordo. A parte l'esposto che presenterete in questi giorni alla Procura della Repubblica, comunque ormai è abbastanza compatta l'unione dei sindaci del Basso Ionio e anche per alcuni versi con i territori dell'Alto Crotonese. Quali altre iniziative avete in programma? Noi speriamo che Dio ce la mandi buona e si avvicina l'estate, sicuramente ci riuniremo indando per vagliare sotto il profilo giuridico questi ultimi atti, indando ci richieremo, penso per l'ennesima volta sicuramente, ma penso per l'ultima volta, ci regheremo verso la Regione per capire ancora se ne esistono le condizioni, cosa si può fare, vuole fare per il futuro, il medio tempo che rimane per l'estate. È chiaro che non saremo lì ad aspettare il danno, va bene? perché un'estate con questi presupposti non sappiamo dove ci porterà, quindi ci muoveremo, adotteremo provvedimenti ed iniziative che tendino a scuotere chi ancora dorme su questa vicenda. Siamo con il sindaco di Cariati, Filippo Sero. Parliamo ancora di emergenza rifiuti che tanti disagi sta causando al territorio, un territorio vastissimo. Cariati poi è ancora più vicina come territorio alla discarica di Scalaceli, dove è stato realizzato un impianto della cui apertura, insomma, si è tornati a parlare anche negli ultimi tempi. Tra disagi e problemi legati comunque a questa emergenza ormai decennale, si è registrato comunque un'unità di intenti tra sindaci del Basso Ionio e dell'Alto Crotonese, che però negli ultimi tempi ha fatto registrare una sorta di incidente diplomatico, chiamiamolo così, con la città di Rossano. Prego. Sì, innanzitutto credo che è bene utilizzare una terminologia anche diretta, diciamo, quella di Scalaceli è una discarica, perché impianto potrebbe essere anche, diciamo, di diverso genere, ma invece Scalaceli la dobbiamo chiamare col nome che effettivamente corrisponde al tipo di impianto, cioè una discarica. Dopo più di 15 anni di emergenza rifiuti, in Calabria evidentemente si ritiene che il problema possa essere risolto con le discariche. Credo che siamo rimasti l'unico posto al mondo dove si ritiene che le discariche possano rappresentare una soluzione accettabile per le comunità, oltre che per i sindaci. Quindi c'è una chiara posizione espressa ormai da anni, devo dire, dai sindaci del Basso Ionio Cosentino e dell'Alto Crotonese di contrarietà all'apertura della discarica di Scalaceli. Peraltro la procedura di autorizzazione alla realizzazione è non a caso oggetto di procedimenti sia di fronte al giudice amministrativo sia in sede penale, perché noi riteniamo che sia cosparsa da violazioni di leggi e da veri e propri abusi, ma questo poi lo deciderà chi di dovere. Intanto, se qualcuno ci chiede la nostra opinione in proposito, noi diciamo no alla discarica di Scalaceli. Non riteniamo che questa sia la soluzione anche dell'emergenza, riteniamo che intanto l'emergenza non possa essere il paravento di una inerzia totale da parte della Regione Calabria, perché si sono succedute diverse amministrazioni regionali di ogni colore e sono state tutte accomunate dalla totale passività rispetto al problema. La Calabria non ha un piano rifiuti, non ha un sistema di gestione dei rifiuti, non ha un sistema regionale e tantomeno possono esserci quindi sistemi territoriali. Noi abbiamo più volte proposto all'assessore, proprio perché non vogliamo essere dipinti, perché non lo siamo, come i sindaci del no, noi siamo dei sindaci che dicono no alla discarica, ma che propongono un sistema territoriale di gestione integrata dei rifiuti, del ciclo integrato dei rifiuti, dando anche la disponibilità alla realizzazione di impianti, ma che finalmente non siano più discariche e che siano commisurate alle esigenze del territorio. Non vogliamo mandare i nostri rifiuti da nessun'altra parte, non vogliamo tutelare, come si suol dire, il giardino di casa nostra a discapito di altri territori, vogliamo gestire i rifiuti che noi produciamo. E naturalmente lo vorremmo fare avviando finalmente un sistema di raccolta differenziato che sia effettivo e concreto, cioè che non sia soltanto anche questo di facciata, perché sappiamo purtroppo che anche quella poca raccolta differenziata che si riesce a fare nei nostri comuni, alla fine, insomma, ritorna sostanzialmente come tal quale. Questo io ritengo che peraltro sia sostanzialmente motivato da interessi evidenti che ci sono in questo settore, noti a tutti, perché la raccolta differenziata chiaramente fa, nel tempo dopo un investimento iniziale, fa comunque scendere i costi e questo evidentemente non conviene a molti, dico io. Anche per questo noi riteniamo che vada valorizzato il sistema pubblico, che oggi in Calabria sostanzialmente non c'è, perché è tutto affidato ai privati. Impianti pubblici affidati alla gestione di privati, addirittura adesso si sta andando verso impianti di proprietà privata, in un settore che è suscettibile, diciamo, di forti posizioni, io non ho paura di dire, di ricatto. Ad esempio, io ritengo che questa ultima crisi, che ormai dura da mesi, insomma, debba in qualche maniera suscitare, non solo nei sindaci, ma anche nei cittadini di questo territorio, un sano sospetto, che sia una crisi tutto sommato indotta, proprio perché poi nella crisi si indicano le soluzioni immediate. La gente, chiaramente, piuttosto che avere montagne di rifiuti per le strade, potrebbe essere indotta ad accettare appunto che nel proprio territorio si facciano buche nelle quali poi sotterrare i rifiuti. Dunque, siamo con il Sindaco di Rossano, partiamo dalla vicenda dei rifiuti. Il Sindaco di Rossano, come è noto, ha requisito l'impianto di Bucita. Per taluni, soprattutto per i sindaci del Basso Ionio, si tratta di un atto di forza, a tal punto da ipotizzare un esposto denuncio alla Procura della Repubblica, del Tribunale di Rossano. Allora, signor Sindaco, un atto di forza che potrebbe anche in qualche misura incrinare i rapporti con i suoi colleghi del Basso Ionio, ma anche con l'ufficio del Commissario. Ma è stato un atto di forza dove il Sindaco di Rossano è stato preso dai capelli perché non è possibile che Rossano, che è sede di impianto, che Rossano, che è sede di due discariche, una che è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica, un'altra che è completamente satura, è Rossano che ha ospitato sempre tutti gli altri comuni, i comuni della Calabria, specialmente negli ultimi tre anni di amministrazione che mi ha preceduto, di amministrazione di centro-sinistra, per un accordo fatto col Commissario all'emergenza rifiuti, dove si abbancavano a Rossano 1.200 tonnellate al giorno di rifiuti, dove Rossano ha ospitato 330.000 metri cubi di rifiuti, dagli impianti di Reggio Calabria, di Catanzaro, dagli impianti di Crotone, da tutti gli impianti che ci sono in Calabria. Rossano è stata sempre ospitale e ha ospitato tutto e tutti. Nel momento in cui c'è l'emergenza rifiuti, per una situazione che riguarda il Commissario dell'emergenza rifiuti, perché l'incapacità del Commissario dell'emergenza rifiuti, non di questo, ma di tutti coloro che si sono succeduti negli anni, hanno portato purtroppo la situazione di rifiuti in Calabria in queste condizioni. Allora, cosa dovevo fare nel momento in cui gli altri comuni piccoli abbancano su Rossano e poi per trasferenza vanno su Cassano? E i comuni invece di Rossano e Corigliano, che non sono ospitati dalla comunità cassanese, si sono visti per oltre 15-20 giorni non poter smaltire i propri rifiuti. Nel momento in cui si era deciso che un'autonomia di 400 tonnellate, di una discarica privata, potessero servire per abbancare i rifiuti di Rossano e Corigliano e poter smaltire i rifiuti in esubero, non i rifiuti del fabbisogno giornaliero, ma i rifiuti in esubero che erano lì sulle strade di Rossano e Corigliano, potevano essere convogliati su questa discarica privata che è nelle immediate vicinanze dell'impianto di Bucita, con un'ordinanza del Commissario, il quale ci siamo sentiti prima, l'avevamo concordata. Nel momento in cui vengo a sapere che in quella discarica privata non abbanca Rossano né Corigliano, ma abbancano gli altri comuni che erano stati già ripuliti perché avevano la trasferenza su Cassano, quindi avevano già ripulite le proprie città, beh, onestamente mi sono sentito indignato, umiliato, mortificato, con un'ordinanza urgente, con un'ordinanza dove ho le mie prerogative, dove ho i miei poteri che mi trasferisce lo Stato per motivi igienico-sanitari, ho requisito con un'ordinanza quella discarica e l'ho messa a disposizione prima della comunità rossanese. Atto legittimo, secondo lei? Atto legittimissimo, atto legittimo perché è una discarica che è nella sede comunale, nella sede di Rossano, dove era satura, dove è uscito fuori che c'era ancora un'autonomia di circa 500-600 tonnellate e che quella discarica doveva smaltire i rifiuti di Rossano e Corigliano. Io non avevo avuto niente da eccepire che Corigliano venisse lì a smaltire i rifiuti perché ho visto che Corigliano era in una situazione ancora peggio di Rossano. Ha una soluzione come uscire da questa emergenza? Intanto io sono riuscito con questa ordinanza a bonificare la mia città. Oggi Corigliano sta bonificando la sua città perché c'è un'altra ordinanza del commissario che dà a Corigliano la possibilità di smaltire 100 tonnellate al giorno e quindi nell'ambito di 15 giorni, 10 giorni Corigliano tornerà anche alla normalità. Per il momento si andranno a smaltire gli scarti su Taranto. Io non so fino a quando ma è una decisione del commissario emergenza rifiuti. Certamente ci sono delle situazioni e ci sono delle responsabilità grandi quando un macigno per un commissario all'emergenza rifiuti specialmente questo ultimo che ha dimostrato i suoi limiti perché non è possibile in tanti anni di lavoro in tanti anni non aver trovato l'alternanza non aver potuto pianificare non aver potuto dire alla Calabria intera si fa così abbiamo deciso di fare in questa maniera abbiamo pianificato si è campato si è vissuto sempre alla giornata e questo non è possibile sono delle responsabilità che appartengono al governo regionale di 10 anni addietro di 5 anni addietro anche a questo governo regionale perché ritengo che anche Scopeliti dovrebbe avocare a sé questa tematica sui rifiuti e togliere questo commissario all'emergenza rifiuti che ha dimostrato tutte le sue incapacità che ha ridotto la Calabria in un immondizzaio grazie a tutti grazie a tutti